Ecco le prime due gare pomeridiane, sempre categoria Puccini 2006, abbiamo il Fossacessa Calcio, maglietta bianco-rossa, abbiamo la Valle Aventino, abbiamo la Delfino Pescara, giusto? La Delfino Pescara, abbiamo i quattro colli giusto? Allora schierati, ecco, mettetevi così, mettetevi così più avanti voi, più avanti, si due ginocchi, mettevi in ginocchio, alzo.